Ecco, guardate, ho preso la medusa con le mani. Tutti quanti hanno paura di prendere le meduse. In realtà, non tutti sanno che la medusa, l'unica parte irritante, sono i tentacoli e questa parte è quella. Quindi se voi la prendete con le mani, non avete nessun tipo di problema. Non vi farà niente. Guardate, la sto tenendo tra le mani. E non ho niente in mano, no? Quindi se ne trovate una, non abbiate timore, la potete prendere solo dal cappuccio. E non dei tentacoli, ricordatevi.